L'ufficio Fondocasa di Genova Centro è nel cuore della città, nel centro storico e più precisamente in Piazza del Ferretto, a pochi passi dalla famosa via di San Lorenzo. Il centro storico di Genova offre ottime opportunità di investimento, anche perché i palazzi storici di cui è ricco sono tutelati dalla sovrintendenza alle belle arti e godono di forti sgravi fiscali, che ne rendono molto appetibile l'acquisto, sia come fonte di reddito, sia come abitazione. Attraversando le vie del centro storico, sembra di tornare indietro nel tempo. Vi si trovano palazzi risalenti al Medioevo e palazzi del Seicento con affreschi, colonne in marmo e artistiche volte. In via Garibaldi, sempre nel centro storico, si ammirano palazzi di straordinaria bellezza, come Palazzo Bianco e Palazzo Rosso, che ospitano numerose opere d'arte, tra le quali spiccano dipinti dei fiamminghi Hans Memling, Rubens, Van Dyck e opere cinquecentesche del Veronese e di Filippo Lippi. La zona mare e il suo famoso porto, restaurato nel 2001 in occasione del vertice del G8, ci riportano al presente con l'acquario, l'ascensore panoramico, la pista di patinaggio sul ghiaccio e il galeone Neptune. Ma una casa nel centro storico di Genova è l'ideale per il genovese nostalgico, per il pensatore, l'artista, il vecchio marinaio, lo studente e per tutti coloro, e sono tanti, cui piace andare al lavoro a piedi, dimenticando il traffico e lo smog. Grazie per la visione!